Musica Dal giorno della fondazione a ora, per la Juventus tutte le partite sono da vincere, tutte le partite sono da portare a casa raccogliendo il massimo del bottino, non è che una differisca da un'altra, certo ce ne sono oggi alcune più sentite, una in particolare quella contro l'Inter che credo sia l'unica partita del campionato italiano per la quale il tifoso Juventino entra in fibrillazione. Tutte le altre, io escluderei anche quella con il Milan che per me rappresenta il vero derby d'Italia, ma tutte le altre sono ordinaria amministrazione di squadre, talvolta anche belle nel loro ruolo di ancelle, di comprimarie, di partecipanti, perché poi alla fine, stare a vedere senza andare tanto indietro, guarda mi limito agli ultimi 80 anni, cioè quelle che vincono sono sempre più o meno le tre stesse, quindi tutto il resto, tutto il resto è aria fritta Massimo, poi quarta stasera, e quarta stasera speriamo di non dover spostare alla montagna per tirar fuori un miserabile topolino, speriamo di migliorare negli ultimi 20-25 metri, con maggior precisione in rifinitura, magari con qualche tiro da fuori, io penso Massimo che stasera sarà la partizia di Combenas. Ma auguriamocelo Marco Danapoli, auguri grande Alex, mi dispiace ma non ho fiducia in questo allenatore, non mi aspetto nulla di buono né per stasera né per la stagione, spero di sbagliarmi. Sai che sono parecchi ad avere il dubbio che Motta non possa durare, lo stesso Tacconi in un'intervista parlando anche del suo stato di salute, scusate ha detto, ma si chiama come un panettone, lo mangerà? Bah, che Tacconi insomma, lo sappiamo, è sempre stato un po' senza troppi peli sulla lingua. Allora, vedrei meglio un ritorno di Giraudo Emoji, dice Giovanni, Leonardo, un colpo al cerchio e uno alla botte, Locatelli non piace particolarmente neanche a me, ma credo che una copia di intermedi quali lui e Thuram sia assolutamente funzionale al razionale tattico Ezio. Guarda, io intanto Massimo mi interrogo, mi chiedo, vorrei, e sarei curioso di sapere cosa si basa la mancanza di fiducia in Motta, perché se per una questione estetica o per il suo modo di comunicare lo trovo abbastanza, lo troverei abbastanza puerile. Cioè, nella sostanza vorrei capire dove manca questa fiducia, perché a meno che non si parte dal presupposto, che oggi la Juve dovrebbe essere a punteggio pieno, tanto in campionato quanto in Champions League, incantando il mondo, allora è un'altra faccenda. Io invece la fiducia ce l'ho, non è una fiducia illimitata, non è una fiducia senza termine, però la volontà di dare credito a quest'allenatore di poter dimostrare nel momento in cui avrà la maggior parte dell'organico finalmente a disposizione integrata, vedere che cosa sarà in grado di combinare. Dopotutto, Massimo, e concludo, stasera, cioè domani sera, scusami, dopo Inter Napoli, partiamo dal presupposto che la Juve faccia stasera il suo dovere. Domani sera potremmo anche trovarci a due punti dal primo posto, per cui vedrai che dovesse succedere in quel caso tanti giudizi che vengono frettolosamente dati di pancia sulla scorta del risultato immediato, sarebbero immediatamente ribaltati. Poi, certo, entriamo nel merito di chi, ovviamente, ha poca fiducia o ha inugia, motta, forse per altri motivi, forse perché avrebbe preferito altre soluzioni, ma io non capisco perché non si possa accompagnare questo progetto tecnico appunto con la fiducia, con un po' di entusiasmo, con la speranza. E non abbiamo ancora perso una partita in campionato. E figuriamoci mai il giorno in cui arriverà, il giorno in cui ne perderemo una, e cosa succederà? Il popolo juventino si rilasserà in massa alla continassa con i fraconi, le torce, i cartelli, chiedendo l'impiccagione sulla pubblica piazza, magari per i piedi. Io, insomma, inviterei ad un certo tipo di moderazione anche nei giudizi, Massimo. Guardate qui il gruppo J-Group 1897, Tony De Paola, che però è rimasto a Nardò per coordinare attività sportive, però ci mandano queste immagini. Guardate qui, qui siamo di fronte all'Allianz Stadium, dobbiamo sempre realizzare quel famoso contributo per farvi vedere dov'è l'Allianz Stadium per chi non c'è mai stato. Belle immagini queste, vedi che c'è ancora gente, Ezio, che alla fine, nonostante un distacco della società, fa ancora i chilometri per venire a vedere la Juventus. Un grande grazie per il vostro impegno, grande professionalità per la nostra Juve, Alfredo da Atene. Grazie, Alfredo. Allora, oggi dice, no, Sers, Giovanni, se lui dovesse, si riferisce a Giovanni Orto, essersi fatto un bel po' bagno di umiltà, io potrei anche accettare. Detto questo, di riserve, stiamo parlando di motte, di quello che, di riserve, ne ho parecchi anch'io. Giampiero, oggi non la possiamo steccare, sarebbe perdere un'ulteriore occasione per avvicinarsi alla prima in classifica. Purtroppo, anche se giochiamo in casa, è strano, ma non riusciamo più a vincere. Antonio, concordo pienamente con la vostra opinione sulla durata imprevedibile di no. No, no, io, Antonio, sono convinto che è molto a duri. Io credo più al mister che al nostro proprietario. Gisdram, riscontro, ostinazione su il Diz. Giovanni dice, grande Ezio, non so più come farti i complimenti. Gordian, ciao Ezio e Massimo, Riccardo, hai già detto questo. Peter Pam, buon sabato, signori, complimenti per il vostro modo di fare. Grazie. Giovanni dice, Ezio, ascoltarti una delizia. Kevin, oggi è derby, io che sono di Torino, lo sento tantissimo. Ah, ok, Kevin, a prescindere dai tantissimi derby che abbiamo vinto in questi anni, questa partita la voglio sempre vincere. Michele, Massimo, sta facendo il Giro del Web, l'intervista di Giletti a Radio Bianconera. Non lo so che cosa ne penso, perché occorre vedere quello che dirà alla fine. Andiamo con un po' di vocali. Mi chiedo scusa, perché ecco Gisdram, eccolo qua. Siamo riusciti a ripristinare. Buongiorno giovani da Gisdram. Buongiorno. Nei giovani mi ci metto anch'io. Ma si sa come siamo fatti noi tifosi, dai, ci mettiamo meno di tre secondi a far diventare un eroe, una pippa e viceversa, capito? Dai, siamo fatti così, è frutto dell'emozione, vorremmo sempre che la nostra squadra vincesse tutto lì, dai, non è. Questo è vero. Non sono giudizi cattivi, ci si lamenta come è normale che sia, insomma, dai. Ciao. Ciao. Speriamo bene stasera. Altro vocale. E che Motta non lasci nel deserto dei gobbi Vlaovic. Ciao. Vediamo chi giocherà, prima non l'abbiamo anticipata, ecco qua l'altro. Oh, buongiorno Ezio e Massimo. Buongiorno. E buon derby per stasera. Sono Derbys di Pistoia. Sì, veramente non si riesce a capire questo scetticismo verso Tiago Motta. Cioè, mi sa tanto di malafede perché fino ad ora è vero, ha fatto qualche pareggio in più, però anche sfortunatamente con il Cagliari e Vlaovic la tirò fuori a porta vuota. A Empoli stesso ebbe una grande occasione, basterebbe solo quelle due occasioni lì, averle trasformate, che eravamo primi in classifica e imbattuti ancora. In Europa ho visto una squadra nuova. È vero, abbiamo sbagliato la partita con lo Stoccarda, ma all'Ipsi ha fatto un'impresa. Con il Lille ha giocato da squadra europea, meritava nettamente la vittoria. Io non capisco questo accanimento verso Motta, ma l'organico della Juve ancora non è competitivo ai massimi livelli, nemmeno in Italia, perché l'Italia è nettamente più forte, lo stesso Napoli, sono più complete. Non abbiamo un'alternativa a Vlaovic. Anche dietro siamo contati, cioè già con Bremer secondo me mancava un difensore, senza Bremer gioca, e che deve fare? Io sono veramente sbigottito da certi commenti da pseudo tifosi secondo me. Vi ringrazio. Ah, l'ultima cosa, non capisco, ecco, sono un critico sull'acquisto di Nico, che come giocatore sarebbe valido, ma purtroppo è un giocatore del tutto inaffidabile. E questo la Juve ci casca spesso. Lo stesso Pogba, se vi ricordate, gli ultimi due anni prima di venire alla Juve, quante partite aveva saltato. Buon pomeriggio Massimo, buon pomeriggio Ezio. Volevo porvi una domanda, Fabio da Taranto. Sì. Oggi avreste lasciato a riposo Vlaovic? Se la risposta fosse stata sì, avreste messo UEA al suo posto o qualcun altro? Fabio, non so se sarà a riposo Vlaovic, non credo Ezio, no? Non credo proprio. E UEA mi sembra l'unica alternativa in questo momento. Prego Ezio. Ma da quello che ho capito, poi, attenzione, io le ultime notizie le ho di stamattina presto, le ultime notizie, le ultime indiscazioni. Poi, da qui a stasera, tante cose possono sempre cambiare, ma da quello che io so, Vlaovic dovrebbe partire dall'inizio, come dovrebbe partire dall'inizio UEA al posto di Consensão. Se poi mi si chiede, siamo d'accordo su questa formula, io sostengo che questa squadra faccia un po' fatica, faccia fatica a digerire o ad eseguire con piena efficacia questo 4-2-3-1, io preferirei avere un centrocampista in più, preferirei un 4-3-3 puro oppure un albero di Natale, un 4-3-2-1. Un albero di Natale che ci consentirebbe di non sciupare il talento di Il Diz e nel contempo riuscirebbe a farlo convivere con quello di Colmeina. Sì, questo dovrebbe essere, almeno. Buon pomeriggio, questo WhatsApp è Lisa da Reggio Calabria, vi seguiamo sempre con molto piacere. La domanda che gli è stata fatta in conferenza stampa al mister, se lui pensa di essere di passaggio alla Juve, sinceramente non mi è piaciuta per niente, il mister se non altro ha saputo rispondere. Per quanto riguarda invece sulle voci del rientro di Andrea Agnelli che vorrebbe comprare Juve e cerca investitori arabi, cosa ne pensate? Adesso magari lo ribadiamo visto che Lisa magari si è messa alla visione soltanto ora. Da una parte mi farebbe piacere perché in primis tifoso oltre che presidente e poi colui abbiamo vinto, dall'altra ha visto il bilancio con cui ci ha lasciato l'amicizia con Allegri, non si sa, preferisco di no. Un abbraccio da me e mio padre, Torino e Bianconera speriamo. Aspetta che andiamo ancora con Gisram poi riaffrontiamo il tema prima che non ribadiamo. Eccolo qua. Ancora Gisram? Ezzo, guarda io sono d'accordo su quello che dici te, che non si può avere continuità, eccetera, eccetera. Ma perché te come me e come tanti altri, Lorenzo, Massimo, vi arrabbiate durante le dirette e dite quello che dico anch'io, no? Ma perché non fa in cross? Ma perché la passi sempre indietro? Ma perché 300 passaggi al centrocampo? Ma perché purtroppo giocano alcuni giocatori e altri no? Perché Ildis non sta più vicino a Dusan? Lo diciamo tutti. Se le vediamo noi queste cose che non prendiamo 5 milioni all'anno, ma perché non le deve vedere chi le dovrebbe vedere? E' questo che ci fa arrabbiare, no? A voi, come a me, come a tanti. E' questo che ci fa arrabbiare. Sono cose ovvie che andrebbero fatte. E perché non si fanno? Punto interrogativo. Cioè, non ho capito, non le fa l'allenatore. Il problema è che tutti i tifosi, Rezio poi ha più esperienza di stadio, sicuramente anche in curva, ti dicono se ma che stai facendo, ma metti questo al posto di quest'altro. Mi sembra abbastanza normale che un tifoso si trasformi o in arbitro o in allenatore o addirittura in calciatore. E' sbagliato, segnavo anch'io, fa parte del gioco e del fatto che spesso si ragioni molto di punch. Ezio, ciò che mi lega a vita, all'amore che ho venuto solo per la Juve di allenatori mi può fregare poco. Parla di fiducia e mancanza di risultati, tutto qua. Apple, io ho capito che la JJ vuole solo lottare per lo scudetto del bilancio, ambire a piazzamenti e nulla più, a far bella figura in qualche match europeo e a campare di rendita. L'Allo, l'Inter ha meno di salvataggi divini, il prossimo anno dovrebbe incominciare a vendere, quindi la strada per noi si fa in discesa. Juventus 1982, buongiorno ragazzi. Domanda su Motta, è più offensivo o difensivo? Perché faccio un po' di fatica a capire. Ezio, offensivo o difensivo? Allora, l'impressione immediata, o comunque quello che è emerso da questo primo ciclo di partite stagionari è che la sua filosofia di gioco sia in questo momento soprattutto difensiva. Difensiva comprensibilmente, perché nel momento in cui si costruiscono le squadre, le squadre si costruiscono partendo dalla difesa. bisogna dare solidità difensiva. Il concetto del possesso palla è estremamente semplice. Se la palla ce l'ho io, non ce l'hai tu. Se non ce l'hai tu, non mi puoi far male. E inoltre, se la palla ce l'ho io, tu ti stanchi di più. È chiaro che poi bisogna raggiungere, bisogna coniugare a questo tipo di situazione come una fase offensiva convincente. Convincente con qualcosa anche di preparato prima. Fase offensiva che oggi certamente non è convincente, ma è resa anche meno convincente da un certo tipo di situazioni che hanno fatto sì che molte volte raccogliessimo anche in termini di produzione meno di quello che si era seminato. È ovvio che nel momento in cui la Juventus migliorasse la sua fase offensiva, vale a dire, se nel momento in cui l'azione ripartisse in modo più veloce e brillante, ne beneficerebbero anche gli uomini che stanno davanti. Però certamente occorre introdurre anche come mentalità una sorta di rigore pratico. Perché a volte si è molto leziosi, perché a volte si dà l'impressione di voler entrare in porta con la palla, perché si tira poco da fuori e perché forse anche la mancanza ancora totale di Amaliga, ma lo dicono tutti i giocatori che per conoscersi, per sapere la memoria senza guardare dove il compagno è e quindi già mettere la palla sulla fiducia ci vogliono tante tante partite insieme. Questo è massimo ed è per questo che dico che al di là dell'incompletezza dell'organico, perché è un organico che chiaramente va completato, va migliorato, va depurato, perché cambiando molto una quota di quello che si cambia si sbaglia, è fisiologico, ma una vera fioritura di quello che è il concetto di calcio, il Vangelo calcistico, secondo Motta, noi lo vedremo nella prossima stagione. So che questa affermazione piacerà poco, ma è così. Allora come vedete vi invitiamo a lasciare un like così il video gira e se non l'avete fatto iscrivervi al canale. Allora vediamo ancora, Antonino dice Non capisco come sia possibile acquistare giocatori fragili fisicamente, i dirigenti non danno un'occhiata a Transatmark, mi viene da dire Postal Market, Nico González, Pogba, Milik, De Sciglio, Prima Conchedira, Ramsey, Sergio, per essere veramente disastrosi non servono due o tre anni, ma anche una sola stagione, questo non per dire che il Dalai Alma ritorna per l'amor di Dio, ci manca solo questo, il Madrid ha la panza piena. Gislam, sì, ci chiamano Gobbi perché la maglia si gonfiava durante le partite, per cui... Giuseppe, scusate ma l'attaccante dell'Ipsia non vi piace, ricorda molto Ibra. Duilio dice Come fanno a conoscersi i giocatori che in ogni partita la formazione è diversa? No, no, sono d'accordo, però trovandoci oggi con Milik in quelle condizioni, il mi normale, io non ho mai apprezzato troppo Ken. Federico dice Allora, prima ce n'è uno che un amico, Peppe, dice Taluni youtubers aziendalisti insistono sull'essere veri Gobbi di alcuni calciatori. Danilo, Locatelli, indice secondo me di mediocrità e provincialismo. Preferisco dei mercenari motivati alla Tevez. Ma alla fine cosa vuol dire essere veri Gobbi? Cioè vuol dire, credo, no, che un calciatore in erba, tifa Juve, resta un tifoso della Juve, poi può andare a giocare se è bravo al Milan, all'Inter, però magari è un tifoso della Juve. Ecco, indossare quella maglia lì vuol dire per molti, cioè, per persone che tifavano già Juve, essere un vero Gobbo. Se no vai dove ti pagano, no, alla fine. C'è il famoso discorso delle bandiere, tra l'altro Stefania Capodici fa gli auguri a Del Piero. Federico non è pessimismo e realismo. Con questo motto non entriamo mai fra le prime quattro. Cristian dice diamo fiducia al mister. Tornando a veri Gobbi io identifico questo, però ormai, cioè, la Juventus non è più quella squadra di approdo dove nei vecchi derby, mi riferisco a quegli anni, visto che stessera c'è il derby, molti volevano arrivare alla Juve, volevano dire essere arrivati all'apice del calcio italiano, ma anche del calcio europeo. Oggi non è più così, per cui come facciamo a dare una definizione di vero Gobbo a Danilo o a Locatelli? Io credo che Marchisio fosse un vero Gobbo, cioè un DNA bianconero. Del Piero, punto interrogativo, visto che oggi compie gli anni. Altri, ce ne sono tanti, in questo momento non mi vengono in mente, però voglio dire, non riesco a dare una definizione certa, no Ezio? Secondo me, vero Gobbo, e chi si compenetra, parlo di giocatori, e di chi assimila immediatamente, si compenetra totalmente in quello che è il clima di casa Juventus. Abbiamo fior di esempi di gente arrivata da fuori, i Montero, i Devis, c'è gente per la quale la Juventus era un'avversaria, era vista da fuori, e che una volta arrivati qui hanno capito che alla Juventus si respira un'aria diversa, e l'hanno fatta propria, diventando degli esempi. Il fatto di essere tifosi della Juventus da piccoli, come sicuramente Locatelli, come è stato Marchisio, non necessariamente aiuta il miglioramento delle prestazioni. Molti pensano, questo è Juventino per cui sicuramente darà qualcosa di più, sarà disposto a mangiare l'erba, a morire in campo perché sta giocando per la squadra per cui tifa, ma in realtà non è così, in realtà non mi piace neanche il termine mercenario. In realtà questi sono iper professionisti, ma lo sappiamo perché, ad esempio, UEA, il papà di UEA, il papà del nostro UEA, ha dichiarato ripetutamente più e più volte che lui aveva due squadre nel cuore, il Tottenham e la Juventus. Eppure mi pare che abbia giocato nel Milan con un rendimento stratosferico, a prescindere dal fatto che tifasse per altre squadre. Quindi non è il cosiddetto tifo nel momento in cui si diventa professionisti, in qualche modo un po' spontaneamente si diluisce e un po' anche obbligatoriamente, ma è così non solo per i protagonisti del palcoscenico, ma è così anche per chi segue il calcio a 360 gradi e deve riuscire a far prevalere la parte oggettiva di sé, togliersi le fettine di prosciutto o la maglietta dal collo e cercare di guardare le cose oggettivamente, magari soffrendo nel proprio interiore, ma cercando di essere onesto con quello che si vede, Massimo. Allora Maurizio dice, domanda che appoggio anch'io, secondo lei la prossima stagione avremo una liquidità per prendere qualche giocatore di livello internazionale in modo di alzare un po' l'asticella, Ezio? Un po' l'asticella la alzeremo, con molta molta attenzione, ma di un qualcosa l'asticella verrà alzata e ti dico di più, so che stanno, però non prendetela come... è un'indiscrezione, secondo me, abbastanza fondata, ma non prendetela come oro colato, so che è al vaglio la possibilità di un ulteriore aumento di capitale per dare da una parte un'altra spazzolata al debito e per poterne immettere una parte sul mercato. Questo sì, ma che questa squadra sia in progress è assolutamente fuori discussione. Roberto, no, infatti non ti abbiamo risposto. Scusate, ma Danilo gioca questa sera? C'è Danilo fra le varie ipotesi di formazione, Ezio? Non mi sembra. No, che io sappia, perlomeno. A me non risulta che farà parte dell'undici titolare, e poi non sono in grado di sapere se subentrerà la partita in corso o se la partita in corso prenderà una piega tale per cui Motta deciderà di farla entrare. Quello che mi risulta è che lui non parta dall'inizio. Poi, come ho detto prima, alla fine la formazione vera la scopriremo solo un'ora prima della gara. Comunque Ken è stato venduto alla Fiorentina, non è in prestito. È stato venduto? No, no, è stato venduto. Esattamente. Tra l'altro ha pure una clausola di 52 milioni. Capito? Questo è il quadro. Ugo dice Copmainers, oltre alle prestazioni, ha quello che può dare alla squadra, ha qualcosa di speciale. Sì, dal primo istante ha compreso più di ogni altro. Che cos'è la Juventus? Sintonia totale. Non lo so, è che torniamo sempre lì, è difficile dare una definizione su chi senta davvero la maglia, su chi la senta meno. Difficile. Così come gli allenatori. Gli allenatori sono dei professionisti, se smettono di giocare, se smettono di allenare la Juventus, non è che per forza di cose non devono più allenare. Cioè, vanno dove il mercato riserva loro delle opportunità. Bene, facciamo un pronostico Ezio, siamo in chiusura, poi questo video lo trovate naturalmente anche in edizione edit tra i video di Signora Perdue. Oppure non ti sbilanci? Ma guarda, preferisco astenermi dal pronostico. Se proprio dovessi farlo, ma vado controcorrente, ma lo faccio in termini scaramanti. In termini molto scaramanti. Perderemo 1-1. Ok. Roberto dice, non possiamo pareggiare, grazie Gizram. Massimo Toro dice, vinciamo 3-1. Io vedo un bel 2-0. Un bel 2-0 e piace per gli amici che oggi si sono... Massimo, dacci anche i marcatori, dai. Segnablaovic e Kenanildiz. Oh, se in brocco giuro che non l'ho fatta apposta. Mi piace. Naturalmente, stasera vi aspettiamo per la nostra live, 21.30. Quindi saremo solo io e Ezio. Poi Bulgari li torna dalla prossima settimana. Vi ringraziamo per questa sempre piacevole conversazione con voi del sabato pomeriggio. Ci vediamo se avete piacere più tardi. Sì, allora ne approfitto per salutare. Grazie Massimo. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, ci hanno fatto compagnia e manifestato il loro gradimento. Mi raccomando, non andate ad azzuffarvi. Prima della partita, che non ne vale la pena. Collegatevi con noi dalle 21.30 perché Massimo e Dio commenteremo la prima frazione. Nel nostro piccolo cercheremo di raccontarvi le vicende del secondo tempo e poi, come al solito, dibatteremo il finale di gara. A tutti, quindi, l'appuntamento è a più tardi. Buon proseguimento di pomeriggio. Auca. E mi raccomando, tutte le volte che siete con noi, mettete il like. A più tardi, grazie. Grazie a tutti.